buongiorno ragazzi sono le 5 e mezza tra mezz'ora dovrò scendere giù per fare il check out e poi verso le 7 mi porteranno all'aeroporto spero solo di non avere problemi con il peso e a a a in Cina hanno la pattumiera solo per le mascherine ho appena fatto il check in dietro di me c'è la bandiera cinese purtroppo una volta arrivato a Changzhou dovrò ritirare il bagaglio e rifare un nuovo check in mentre guardate quanti bei ristoranti che ho qua dietro qua sicuramente hanno il rozi a muo 你好 喂 你好,防疫期間 為了您和他人的身體健康 請保持一米距離 請您進出航站樓時 佩戴口罩,請洗手 做好個人防護 謝謝 不客氣 為您服務是我的榮幸 拜拜 再見 祝您開心 basta adesso devo mangiare 謝謝 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 Grazie a tutti. Questa cosa non me l'aspettavo sinceramente. Mi sono registrato qui a Cheyan e ora mi accompagneranno. Mi accompagneranno a casa con un taxi speciale. Ciao. 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 Ciao.